Problemi con l'autoscatto della vostra fotocamera? Non capite come mai la macchina non scatta quando impostate il comando remoto? Oppure non riuscite a capire qual è il modo più efficiente di dire alla nostra fotocamera che vogliamo fare una raffica? Oggi vado a mostrarvi brevemente quelli che sono i modi drive, ovvero tutte quelle modalità con cui noi possiamo dire alla nostra fotocamera che deve catturare le immagini in maniera differente. Andremo a vedere due modelli, un modello entry level e un modello semi-professionale in maniera tale da capire quali sono le differenze tra uno e l'altro e vedremo che alcuni modi drive sono differenti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi ho fatto delle modifiche al setup. Adesso io vorrei che mi lasciaste un commento per tirare a indovinare che cosa è cambiato e vi dico che è cambiata una sola componente, una componente che però fa tanto. Almeno io sono più contento di com'è impostato il setup adesso rispetto a com'era prima, però vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se indovinate che cosa è cambiato e ditemi anche se preferite adesso o se preferivate prima. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché sicuramente oggi imparerete qualcosa di molto molto interessante e questa è una cosa che potrebbe anche ripetersi in futuro e se non volete perdervi i prossimi contenuti il bottone sta qui sotto. Siamo qui oggi in compagnia di una fotocamera bellissima che a me è sempre piaciuta tanto, ovvero la Canon EOS 700D Umuletto. Io la utilizzo per scopi disparati, non è la mia prima camera, però è una macchina che funziona e che uso ancora con piacere. Ora noi per prima cosa andiamo ad accenderla e accediamo al menu Q. Da qui come potete vedere la temperatura colore io la imposto manualmente, quindi non uso l'auto white balance come fanno in tanti. Andiamo sulle modalità drive che sono oggetto del video di oggi. Ok, come potete vedere abbiamo un bel po' di opzioni. Ovviamente la prima opzione in cui ci imbattiamo è scatto singolo, direi che questa è abbastanza autoesplicativa. Impostando questa modalità di scatto semplicemente andremo a fare la nostra fotografia e faremo un singolo scatto. Subito dopo abbiamo scatto continuo, questa è la modalità da impostare se vogliamo fare delle raffiche. Infatti in questo modo tenendo premuto l'otturatore andremo a scattare diverse foto in rapida successione. Se andiamo avanti abbiamo l'opzione autoscatto 10 secondi e telecomando. Questa è una complicazione, si sono voluti complicare la vita perché praticamente hanno accorpato l'autoscatto da 10 secondi e lo scatto con telecomando. Ora nel momento in cui noi impostiamo questa modalità di drive, se andiamo semplicemente a premere lo shutter la macchina ci metterà 10 secondi a scattare la foto. Mentre se utilizziamo un comando remoto come l'RC6 partirà ad ogni modo un timer, ma questo timer sarà solo di 2 secondi e la fotografia verrà scattata subito dopo questi 2 secondi. Quindi questo è un po' complicato ma basta ricordarsi che autoscatto e telecomando sono sullo stesso bottone e sono separati. Abbiamo anche quest'altra modalità e qui sta un'ulteriore complicazione perché questo è un autoscatto di 2 secondi ma è azionabile solamente tramite lo shutter. Infatti come vedete non c'è il simbolino del telecomando, se vogliamo usare il telecomando l'opzione da impostare è questa. Mentre l'autoscatto da 2 secondi è semplicemente quello che il nome indica, ovvero un autoscatto di 2 secondi. Nel momento in cui noi premiamo il nostro shutter avremo 2 secondi di tempo prima che la foto venga scattata. Ovviamente se stiamo facendo un autoscatto, quindi dobbiamo mettere la macchina in posa, premere lo shutter e poi correre a metterci in posizione con gli amici o quello che è, è molto meglio impostare 10 secondi così abbiamo più tempo per tornare in posizione. L'autoscatto di 2 secondi personalmente lo utilizzo quando sto lavorando su treppiede e voglio evitare il movimento della macchina. Quindi imposto 2 secondi e la macchina scatterà 2 secondi dopo il mio movimento per premere lo shutter e così vado a evitare movimenti indesiderati nel fotogramma. Abbiamo poi un'opzione che vi faccio vedere qui perché sull'altro modello che vedremo dopo non c'è. Autoscatto continuo e questo è impostabile da un minimo di 2 a un massimo di 10 scatti. Ora questa opzione che cosa fa? Praticamente nel momento in cui io vado a premere l'otturatore partirà un timer, quindi è comunque un autoscatto, però la fotocamera eseguirà 2 o 3 o 10 scatti in rapida successione. Quindi a seconda delle impostazioni che gli abbiamo dato, questo può essere un modo per generare un minimo di timelapse. Infatti noi potremmo dire alla nostra fotocamera di fare delle pose da 30 secondi e potremmo dirgli di farne fino a 10 consecutive. In questo modo avremo un minimo di timelapse impostato in macchina che potremmo poi sviluppare comodamente una volta tornati a casa. Ma ora cambia drasticamente la musica perché cambiamo fotocamera. Questa è Canon EOS 6D prima versione, una macchina che io utilizzo praticamente sempre perché mi piace da matti e mi dà tutto quello che mi serve. I modi drive in questo caso sono impostabili anche tramite bottone e rotella, quindi qui abbiamo una fotocamera che ammicca un pochettino di più alle professionali e abbiamo più bottoni con cui possiamo fare le stesse cose. Ma per farvi vedere di cosa stiamo parlando utilizzeremo comunque il display. Dunque nel momento in cui accendiamo la nostra fotocamera possiamo accedere al menu Q e qui abbiamo la stessa opzione già vista in precedenza, quindi andiamo ad aprirla. Come potete vedere il menu è in gran parte lo stesso. Abbiamo scatto singolo, abbiamo scatto continuo. Attenzione perché abbiamo scatto singolo silenzioso che prima mancava. Questo è interessante perché in questo modo possiamo dire alla nostra fotocamera di scattare la fotografia in maniera silenziosa. Quindi non sarà completamente silenzioso ma sarà sicuramente più silenzioso rispetto allo scatto singolo semplice. Dopodiché abbiamo scatto silenzioso continuo, quindi possiamo fare delle raffiche in modalità scatto silenzioso. È molto interessante che ci siano queste due opzioni subito disponibili da questa tendina invece di dover andare dentro nei menu e impostarlo perché è una cosa utile che spesso e volentieri si fa fatica a trovare. Andiamo avanti e vediamo che qui abbiamo self timer 10 secondi e comando remoto proprio come prima e qui abbiamo self timer 2 secondi e comando remoto. Quindi qui abbiamo una comodità in più volendo perché noi possiamo impostare il nostro scatto remoto che corrisponde a un timer di 10 secondi ma possiamo impostare anche il nostro scatto remoto che corrisponde a un timer di 2 secondi. Quindi qui entrambe queste funzioni sono compatibili con il telecomando. a differenza della fotocamera entry level vista in precedenza che ci dava la possibilità di utilizzare il telecomando solamente in una modalità. Questo personalmente lo reputo abbastanza comodo perché così non importa quale di queste due opzioni io imposti sono tutte e due compatibili col mio comando remoto. Devo dire in tutta onestà che la modalità che utilizzo di solito è single shooting. Raramente utilizzo le modalità silenziose, anzi credo di non averle mai usate in vita mia. Una cosa che faccio molto spesso è che vado a utilizzare il timer di 2 secondi con comando remoto. È molto comodo perché in questa modalità quando io vado a impostare la mia fotocamera e la metto su tre piede poi posso far partire direttamente con il comando remoto e la fotocamera scatta dopo soli 2 secondi. Quindi molto comodo, si evitano i movimenti e posso fare tutte le foto che voglio semplicemente andando a premere ripetutamente il mio comando remoto. Bene, come avete potuto vedere il menu non è complicato, è abbastanza semplice. Non dico che sia intuitivo perché un attimino bisogna giocarci. È importante ricordarsi queste cose per due motivi secondo me. Il primo motivo ovviamente è che se dobbiamo fare una cosa in particolare dobbiamo impostare il corretto modo drive altrimenti la fotocamera non fa esattamente quello che le stiamo dicendo e poi ci arrabbiamo ma non è colpa della fotocamera è colpa nostra che non le stiamo dando l'input corretto. Il secondo motivo per cui è bene conoscere questo menu e questo ve lo dico perché mi è successo diverse volte è perché ogni tanto lo impostiamo per sbaglio. Mi è capitato più di una volta di conoscere persone che mi dicessero ma perché la mia fotocamera fa questo brutto scherzo? Io guardavo e dicevo guarda hai impostato questo modo drive, ci credo che ti fa questo scherzo. Magari qualcuno aveva impostato l'autoscatto e poi mi diceva ma perché ogni volta che premo il bottone ci mette 10 secondi a farmi la foto? La fotocamera sta semplicemente eseguendo il comando che gli abbiamo dato. Se lasciamo impostato l'autoscatto o i 10 secondi o i 2 secondi la fotocamera ci metterà effettivamente 2 o 10 secondi a fare la foto ma non è colpa della macchina, è colpa nostra che non conoscevamo questa modalità. Per questo motivo siccome probabilmente ho salvato la vita a un buon 10% di voi vi chiedo di mettere un like a questo video e di seguire anche il mio canale e rimanete sintonizzati per futuri aggiornamenti. È stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!